Per scoprire come nasce un disco, in particolare un Blu-ray 3D, siamo stati nel centro Sony di ADC di Salisburgo. All'interno dei suoi lunghi corridoi, per mantenere l'ambiente il più possibile pulito, si può girare solamente con degli speciali copriscarpe, per evitare così che l'ambiente venga contaminato e i dischi possano essere imperfetti, e addirittura nella camera pulita dove vengono costruiti i dischi, si devono indossare speciali tute. Il processo produttivo per la realizzazione di un Blu-ray a doppio strato consiste nella realizzazione di un disco detto Master, dal quale verranno poi stampati tutti i supporti. Il primo passo è la creazione di un disco in policarbonato trasparente, su cui sono già impressi i dati del primo strato. Su questo viene applicata una sottilissima pellicola in argento riflettente, su cui viene applicata poi un secondo strato distanziatore, nel quale vengono impressi i dati per il secondo strato. A questo viene poi applicato un secondo strato di materiale semiriflettente, coperto a sua volta da un altro strato in policarbonato e a protezione del tutto una speciale lacca che consente di evitare che il disco si graffi rendendolo così illeggibile.